Qualcuno vi parlava e voi rispondevate sullo strano argomento delle vendite errate. Poi d'un tratto chiudeste gli occhi per un momento come per rivedere ed un fiato chi era intorno a una fontana solitario e di sera. C'era allora la guerra è vero e c'era il coprifuoco, ma fuggir spaventato per un soldato ignoto. Forse non era un'ombra quell'uomo, era un fanciullo e la sua fuga un gioco soltanto volontario e riprendesse il corso del discorso interrotto, ma d'un tratto affondaste in un pianto dirotto. Così, tra i chiari affari, la rea malingonia si introduce vestita di buia nostalgia.